Ciao a tutti, Alfonso De Pietro da San Giuseppe Iato, siamo qua per la rubrica quotidiana Da un campo al giorno, riparte il futuro. Cooperative, Placido Rizzotto e Piola Torre. Martina, Maribel, Luca, Emanuele e Martina ci leggono le loro considerazioni. 1982, la legge istituisce il reato di associazione delinquere e di stampo mafioso, da cui riparte il futuro. Noi, scegliendo questo progetto, abbiamo deciso di condividere le nostre idee, le nostre opinioni, le nostre forze, per abbattere il muro dell'indifferenza. Perché è l'intento di tutti i volontari di Libera, continui nel tempo e che le loro orme possono essere tracce per il futuro. La coscienza comune che abbiamo assunto implica la necessità di fare delle scelte coerenti e perseverare nell'impegno. E con Don Milani ci chiediamo, a che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca? E riparte il futuro nella continuità, nella lotta, nella condivisione, con responsabilità. Anche da San Giuseppe Iato, senza corruzione. Riparte il futuro!